Allora, io gli davo una cosa a te che valeva 100 dollari, perché quello del mercato gli davo 100 dollari, ma quando finalmente si è capito che non è il valore che non sta nella moneta, perché la moneta, l'oro e l'argento depositati nei cavoli internazionali totalmente sono circa 20.000 tonnellate d'oro, più o meno, 20.000 tonnellate d'oro che possono rappresentare quindi una parte finita, limitata, di valore globale. Non so se è chiaro, perché io posso fare migliaia di frigoriferi e già solo i frigoriferi valgono 20.000 tonnellate d'argento d'oro e non faccio un omaggio più, non mi vesto più, è chiaro. E quindi andava trovato, si doveva svincolare giustamente il valore della moneta dalla quantità d'oro che rappresentava. E quindi giustamente si è fatto il passaggio logico più razionale, che è quello di rendere intrinseco il valore nel prodotto che io ho, quindi nel frigorifero. Il frigorifero è il valore. Cioè io ho un vantaggio a avere un frigorifero, non ho il frigorifero, non posso mettere, che ne so, la carne, comprarla a chili perché devo imparare una fettina per cuota perché se no il giorno dopo ho i verni. Invece compro il frigorifero, ho il frigorifero, quindi il frigorifero mi risolve dei problemi. Quindi c'è un valore sia di costruzione, ma anche di abitabilità, proprio di feeling. Io ho un acquisto perché mi risolve determinati problemi. Quindi il valore sta dentro il frigorifero e io quindi devo emettere, io stato, devo emettere quel valore per permettere a qualcuno che ha bisogno di un frigorifero di comprarselo. perché poi quel venditore del frigorifero a sua volta avrà i 100 dollari, i 1000 dollari che vogliamo per poter poi far girare nell'economia questo valore che servirà poi come scambio volta per volta tutte le volte che serve. Cioè a questo proposito un esempio, ho fatto anche l'altra volta, ma vi dico perché ero in altre persone, quindi nessuno fosse l'ha sentito. C'era una nota, anche signora cista tedesca, si chiama Margaret Kennedy, che racconta un aneddoto che è indicativo di come vanno le cose e di come la moneta ha un valore di fiducia. Allora c'è una signora che deve pernottare. Allora va in albergo e gli dice, guardi, prenoto la camera poi gliela confermo più tardi e adesso vanno in giro a fare un po' di shopping e poi ritorno. Gli dà la moneta da 100 euro e questo arbitratore gli dà la moglie che va immediatamente dal santo che doveva andargli a pagare un vestito che aveva comprato. Il santo immediatamente, pure lui c'era già il debito col meccanico che gli aveva riparato la macchina, va a dargli 100 euro, esempio gli stessi 100 euro, al quale c'era il marocchino lì che vendeva di contrabbando i cellulari, gli dà i 100 euro, si compra il cellulare e il marocchino poi va dall'albergatore e gli dà i 100 euro per andare a dormire la sera. Nel frattempo, in quel momento, arriva la signora e dice, no, ci ho ripensato, io non mezzo più perché vado via e non mi trattengo più. E quindi, per cortesia, mi dà i 100 euro. Quindi, questo per dire, interessante, poi, aspetta, c'è un proseguio. Siccome tutti gli euro sono falsi, ma quelli erano due volte falsi, perché erano pure stampati da un falsario, ma tutti falsi, però quelli erano doppiamente falsi perché stampati da un falsario non autorizzato, diciamo così, va. E quindi se ne accorge la signora e li crucia. Questo è l'aneddoto che racconta la Margaret Kennedy. Allora, questa signora, però, con questa transazione, serie di transazioni, ha dimostrato che il valore esiste nelle cose, non è la moneta. La moneta è solo il fluido, l'olio che lascia scorrere nel valore, diciamo così. È come la vasellina, no? Se ho due varianti, due superfici che non scorrono, si mette un po' di vasellina e scorre. Ma io, quello di conto, sono le due superfici che sono importanti. La vasellina è solo, diciamo, il catalizzatore che permette la funzione. La storia è chiara. Quindi, noi oggi, mi ricollego a quello che ha detto lui, del 4 milioni di dollari, che è una cifra che non ha senso, non ha senso economicamente, è, diciamo, un... Oddio, ho perso il filo. Perché stavo dicendo... Non c'ha senso. Non c'ha senso. Non c'ha 70 anni di lavoro. No, 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 no. Stavo cominciando un'altra... argomentazione, no, va bene. Niente. Quindi, per tornare allora al discorso della cambiare, mi erano in mente qualcosa, ma non lo ricordo più. Il problema è, quindi, la fiducia. Come dicevo, l'essenza, anche di questo racconto che vi ho fatto adesso, è la fiducia. Non c'è nessun tipo di rapporto... Io li posso sposare con tutti i grismi in chiesa e anche in comune, ma se io non mi fido di mia moglie, dopo tre mesi, io mi rodo il fegato in continuazione, penso che mi tradisce, magari mi tradisce pure, non so fiducia e mi devo andare. Cioè, qualunque tipo di attività, di rapporto sociale, se non c'è la fiducia tra i soci, fra i colleghi di lavoro, chiunque, se non c'è la fiducia, non c'è nessun tipo di possibile convivenza. Quindi, e questo vale maggiormente, appunto, di una cosa così, diciamo, evanescente come il valore. Allora, quindi, dobbiamo cercare di... Allora, siamo arrivati al punto, ecco, questo l'ho detto, siamo arrivati al punto in cui, prima l'ha accettato lui, poi ne abbiamo parlato così, diciamo, di sponda. La cosa importante è la fiducia, anche, siamo arrivati al punto in cui oggi le banche, fra di loro, non si fidano più di scambiarsi le compensazioni. addirittura, siamo arrivati a raggiungere due picchi, uno circa un mese fa, un mese e mezzo fa, in cui i titoli overnight, che sono quelli che le banche, la liquidità dei titoli overnight, che è quella che normalmente le banche si scambiavano fra debiti e crediti durante la notte, tra poi ci sono state depositate. Oramai da circa tre mesi, da quando viene entrata la legge salva stati e salva banche, per cui, praticamente, la Banca Centrale Europea viene assunta come forziere notturno, dove vengono depositate, allora, un mese e mezzo fa, circa 700 miliardi di euro di valore, e ieri, due notti fa, 1000 miliardi di valore. Quindi questo per dire che le banche non si fidano più di loro. Quindi oggi il problema della crisi, come dicevo, ecco che volevo dire anche questo, la crisi non esiste. La crisi esisteva, ad esempio in Russia o in Cuba, esiste ancora, dove non c'è beni di consumo, non c'è roba da mangiare, non ci sono i beni durevoli, non ci sono le strutture che funzionano, le case sono fatiscenti, che crollano e compagnia bella, ma è un'economia viva, fino a chi ce la lasciano vivere, come quella nostra occidentale, in cui ci sono milioni di frigoriferi invenduti, milioni di automobili invendute, milioni di appartamenti, case, ille, addirittura continuano a costruire, vicino a casa mia stanno costruendo ille, a schiera, in serie, a chi cazzo le vendono, vorrei capire io. Il mercato immobiliare è fermo, assolutamente fermo. Io ho amici che fanno gli agenti immobiliari e gli stanno tutti con le pezze al culo, nel senso che non vendono più nulla da almeno sei mesi, non qualcosa, nulla. Io ho il mio inquilino che è un agente immobiliare che guadagnava 200 mila euro l'anno e che ora sta impiccato con te che vuole andare in costa da vuoi, dicevo io vado lì a vedere se riesco a fare qualcosa. E gli ho detto vado, lascio vedere che pure lì stanno messi male. E sta tornando a pagarmi gli affitti, a questo livello. A me lo lascio la più compassione che... però voglio dire, è una situazione generalizzata queste cose qua. E allora il problema, come dicevo, non è che mancano i prodotti, mancano il bene di consumo, mancano...